Il prestito vitalizio è volto a risolvere un problema che è quello degli anziani che hanno pensioni molto basse e molte volte hanno anche i nipoti e i figli da aiutare. Però la modalità con cui è stata emanata questa norma ci convince molto poco perché la parte di quota prestito che verrà concessa al pensionato, quindi all'ultra sessantenne, sarà molto molto bassa e creerà molti problemi alle future generazioni. Cioè a chi si troverà poi a ereditare un immobile che dovrà vendere entro un anno oppure se non riuscirà a vendere la banca si approprierà dell'immobile stesso. Quindi è una norma che va a ledere quella che è un po' la base sociale del trapasso tra i genitori e i figli degli immobili. Quindi doveva essere studiata meglio e teniamo conto che bastava a nostro parere semplicemente togliere le tasse da quella che è la nuda proprietà. Un incentivo fiscale per la nuda proprietà in cui gli anziani avrebbero potuto accedere in maniera molto più semplice. Sulla nuda proprietà il vostro giudizio qual è? La nuda proprietà è un'attività che il pensionato che ha bisogno di soldi può fare tranquillamente perché lì veramente non ci sono problemi. È semplicemente una vendita a posteriori del bene. Uno vende appunto la nuda proprietà e ha il diritto di abitare nell'appartamento che ha venduto per tutta la vita, cioè fino alla sua morte. In cassa una quota di soldi prima e la nuda proprietà permette anche una trasparenza dei rapporti tra compratore e venditore, in quanto il notaio, l'agente immobiliare hanno delle tabelle che in base alla età possono stabilire qual è la somma che il pensionato può prendere per la nuda proprietà. È un fenomeno in crescita? Noi l'attenzioniamo già da tempo e c'è veramente un disagio sociale anche perché l'accrescimento delle tasse negli ultimi tre anni ha portato molte persone, molti pensionati, ad avere un carico fiscale sulla casa o sulla seconda casa molto molto importante.